La disoccupazione nella nostra città, nel nostro paese e soprattutto nel nostro mezzogiorno è molto alta, ma poi sappiamo perfettamente che nella nostra città c'è tantissimo lavoro che non emerge da un punto di vista legale, ma effettivamente c'è. Sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni, della magistratura, delle forze dell'ordine al seminario, nel teatrino di corte al Palazzo Reale, sul contrasto al lavoro sommerso ed irregolare nel mezzogiorno, un fenomeno per il quale il Comune di Napoli si sta impegnando, attraverso l'assessorato al lavoro e alle attività produttive, con un programma integrato di azioni su tutto il territorio cittadino. L'obiettivo prefissato è promuovere interventi locali sui temi del lavoro e attivare una rete di servizi più vicini al cittadino. Si inserisce in quest'ottica il progetto Cuore attuato da Formezza Pia nell'ambito del programma integrato Grande Napoli per il rilancio economico della città. Noi presentiamo al Ministero, a tutti i soggetti istituzionali presenti, il progetto Cuore, appunto una modalità concreta per far emergere il lavoro sommerso e nero nella nostra città, per stare vicino agli imprenditori, sportelli presenti in tutte le municipalità, un aiuto concreto che già sta dando significativi frutti. Il modo migliore per rafforzare l'economia della nostra città è anche il rilancio di Napoli che punta su legalità, sviluppo, impresa e attività economiche tipiche del nostro territorio.